Oggi l'auto è una parte di noi. Autofficina Autoservice di Arcidiacono Salvatore. Passione, esperienza e affidabilità al 100%. Autoservice è affiliata al gruppo leader nazionale Punto Pro. Offre servizi completi di assistenza per vetture di ogni marca e modello e dispone dei più efficienti strumenti tecnologici, oltre l'alta professionalità di una squadra di meccanici qualificati e competenti. I nostri servizi. Riparazioni meccaniche, riparazioni elettroniche, tagliandi di garanzia, diagnosi computerizzata, installazione antifurti satellitari, vendita e sostituzione di pneumatici, impianti di climatizzazione, autonalleggio e servizi della flotta Arval. Da noi, ogni particolare è curato per garantire ai nostri clienti un servizio qualificato, competente e soprattutto tempestivo. Autoservice Arcidiacono Salvatore, via Orazio Campione 10, zona artigianale Giarre, 095-964-942, 347-776-0630. www.autoservicearcidiacono.it Siamo anche su Facebook, Autoservice di Arcidiacono Salvatore. Passione, esperienza e affidabilità al 100%.